Allora, buonasera a tutti, analizziamo un po' il ritardo Inter-Sassuolo, una partita giocata dall'Inter col freno a mano tirato perché c'è la Champions e quindi in questo momento la Champions è più importante di qualunque altra cosa, però rendono importanti anche i tre punti che hanno quasi messo in cassaforte la qualificazione alla prossima Champions League Partita giocata, ripeto, un po' con il freno a mano tirato, soprattutto perché c'erano molte assenze, otto giocatori nuovi, otto giocatori venivano dalla panchina e più c'è Lukaku, Lukaku che ha giocato una partita straordinaria Io continuo a dire, nonostante l'andata abbia segnato Zeko contro il Milan, perché non gioca Lukaku? Cioè Lukaku è in una forma incredibile, cioè Lukaku deve giocare, punto, ma è che Zeko abbia segnato all'andata, non me ne importa niente Cioè col Zeko l'Inter è più lenta di quello che dovrebbe essere, quindi per me la coppia d'attacco è Lukaku-Lautaro se si vuole fare una squadra perfetta, altrimenti con Zeko la manovra rallenta, certamente Zeko dà più in fase di regia perché fa il regista aggiunto di centrocampo, fa il... va a saltare in aria anche sui calci d'angolo quindi chiaramente dà una protezione maggiore rispetto a Lukaku però dal punto di vista offensivo non c'è paragone, Lukaku sottoporta quando informa una sentenza è un giocatore devastante dal punto di vista fisico, quindi per me è sempre Lukaku sicuramente Simon Inzaghi ripartirà nuovamente con Zeko, così come ripartirà sicuramente con Mkhitaryan anche se Brozvic ha dimostrato un'altra volta di essere in grandissima condizione giocando una partita straordinaria sabato con il Sassuolo, il migliore in campo assolutamente poi altre indicazioni non ci sono state perché sappiamo i limiti di molti giocatori Gagliardini che spero che sia le battute finali perché all'Inter non la voglio più vedere Aslani male, però Aslani è un prospetto futuro interessante certo, buttato lì così per fargli giocare mezz'ora su un risultato di 3-0 è chiaro che il ragazzo ha tutto da perdere e niente da guadagnare per quel che riguarda invece Bellanova, per me è un'ottima prova, soprattutto nel secondo tempo giocatore che ha gamba, ovviamente gioca con un solo piede però ha dimostrato che nella corsa ci sta tutto niente, aspettiamo questo derby adesso di ritorno giochiamo in casa, siamo sicuramente favoriti però il Milan arriverà con il dente avvelenato dopo anche l'ultima badossa di La Spezia è una squadra che tenterà il tutto per tutto e secondo me questo tutto per tutto lo tenterà proprio nei primi 20 minuti quindi io mi aspetto un Milan nei primi 20 minuti molto determinato per cercare di rimediare il risultato poi vediamo un po' come si mette se la partita permane sullo 0-0 sicuramente il Milan non potrà tenere un ritmo molto elevato per tanto tempo allo stesso tempo, se Milan segna a quel punto il match si riapre ma anche ovviamente se se dovesse segnare l'Inter credo che il match sia finito quindi direi che è un match che come andrà a finire la partita si vedrà nei primi 20-30 minuti perché poi è difficile che possa succedere qualcosa cioè se la partita resta bloccata vedo alla lunga l'Inter molto favorita anche perché ha tanti cambi sicuramente ha più energie fisiche da spendere è più in forma quindi io credo che l'Inter deve solamente non tremare non tremare e non abbassare allo stesso tempo allo stesso tempo l'attenzione perché queste due cose sono importanti certo rientra la Leao non si sa in che condizioni sta non ha giocato in ultimi dieci giorni cercherà il tutto per tutto lui sicuramente lì creerà scompiglio visto che insomma lo marca Darmianne che non è proprio un fulmine di guerra e soprattutto è un po' fuori posizione in altri derby è vero che l'Inter ha limitato Leao a parte l'ultima sfida la prima sfida di quest'anno ma in realtà c'era Skriniar Skriniar ha un'altra struttura fisica quindi Darmianne sicuramente lo patirà bisognerà andare a raddoppiare lì su quella zona non so se ci esce Barella fondamentalmente l'Inter ha bisogno di qualcuno che vada ad aiutare Darmianne perché da solo non può contenere Leao se sta bene è chiaro se poi Leao come penso è limitato dall'infortunio il discorso è diverso aspettiamo questa partita vediamo un po' se riusciamo ad arrivare a Istanbul e poi domenica c'è un'altra partita di campionato che a questo punto diventa meno importante visto che il distacco comincia a diventare notevole con il Milan il Milan si trova oggi a 5 punti ha ancora la partita di Torino con la Juventus quindi una partita difficile e l'Inter le ultime due partite a Atalanta e Torino dopo la partita di Napoli che insomma sono sfide sicuramente da avere attenzione perché ci vuole attenzione ma Milano per me le ultime due sfide hanno più di un problema con Juventus e Verona quindi credo che il loro calendario sia più difficile dopo la partita di domenica dove loro hanno via libera con la Sampdoria quindi direi che per il momento il campionato può attendere anche perché c'è la Coppa Italia dopo il Napoli quindi adesso si va per priorità di Coppa poi vedremo successivamente prima di momento vi saluto e ci risentiamo mercoledì per analizzare la partita contro il Milan sperando di analizzare una partita che ci catapulti nella capitale nella capitale di fatto della Turchia anche se è Ancara ma la capitale di fatto della Turchia è Istanbul almeno dal punto di vista commerciale buona serata a tutti